Da questa mattina 88.000 studenti delle scuole superiori piemontesi, ovvero il 50% dei 176.000, hanno ripreso le lezioni recandosi finalmente in classe. Il CTS ha dato l'ok, in Piemonte si è rientrati a scuola. Come è andata? È andato tutto bene, è stato un ingresso fluido, sereno, abbiamo aperto i cancelli alle 7.30 in modo che i ragazzi abbiano potuto entrare serenamente e non abbiano fatto sembramento fuori da scuola. Siamo contenti, abbiamo dato la possibilità alle quinte di frequentare fin da subito il 100%, prime, seconde e terze sono scaglionate a gruppi, quindi 50% in presenza, 50% in didattica digitale integrata. La prossima settimana entreranno le quarte, quindi speriamo in questo modo di offrire a tutta la popolazione scolastica la stessa opportunità, il 50% della presenza a scuola. Credo di parlare a nome anche di tutti i colleghi, quello che noi abbiamo realizzato finalmente questa mattina è il piano di rientro che avevamo pronto anche la 7 di gennaio, con le modalità che erano state previste nel rispetto della percentuale del 50% che ci è stata richiesta dal DPCM, di conseguenza per noi quello di oggi è stato un po' un momento, io lo definisco di festa, perché è stato proprio il ritorno alla normalità, un tentativo che speriamo riscuota anche un successo e che funzioni. L'avere implementato i trasporti ha funzionato? Sicuramente siamo speranzosi e fiduciosi che insomma i tavoli di concertazione e di confronto siano serviti, perché effettivamente la nostra scuola ha un alto tasso di alunni viaggiatori e quindi è giusto che il diritto all'istruzione sia garantito a tutti quanti. Ho l'impressione che il sistema abbia funzionato, perché ho sentito dai ragazzi citare pullman di rinforzo, che prima non c'erano, pullman non affollati, così mi è stato detto dai ragazzi. Direi che come primo giorno sembra che tutti gli accordi che sono stati presi a livello di tavoli prefettizi stia funzionando. La situazione della preparazione dei ragazzi, questa DAD influirà sul loro futuro? Sicuramente, perché la DAD continua ad essere un'esperienza significativa, mi sa che non potremo farne a meno ancora per parecchio tempo. Hanno acquisito delle competenze trasversali, non solo in campo informatico, ma la capacità insomma di lavorare per gruppo a distanza, di implementare conoscenze che prima non avevano, di lavorare anche per mappe concettuali. Quindi è stata un'esperienza significativa, utile e un bagaglio in più che i ragazzi hanno. Però certamente la didattica in presenza è nella sua essenza la definizione di scuola. Posso rispondere che forse sarà il tempo a dimostrarlo. La scuola, le scuole, tutte quante, hanno fatto la loro parte in modo molto serio, con un grande coinvolgimento del personale, che io veramente intendo ringraziare, perché hanno svolto un'attività anche imprevista, anche di supporto ai ragazzi, di supporto emotivo nella relazione. Mi piace dire che quando i ragazzi arrivano anche nella classe virtuale, vi è loro richiesto come va, anche solo per stabilire un aggancio, un rapporto con queste faccine che si trovano dall'altra parte del monitor.